allora questo è un video notturno poiché tutto quello che è appena successo e che ha portato a questo video è appena successo dunque è successo di notte dunque il video è notturno mi ha telefonato richard htt mi ha realmente telefonato richard htt questo dimostra nel periodo della comunicazione come sia facile rintracciare una persona se vuoi fargli delle minacce per fortuna richard non mi ha fatto delle minacce ci siamo fatti una bella chiacchierata come due normali ragazzi maschi che si chiamano a mezzanotte si è normale dai perché dovrebbe essere comunque a parte questo sì c'è qualche piccola novità giusto volevo informarvi prima di andare a dormire ho ricevuto il depliant di come essere uno youtuber dunque ho cambiato look se mi piacevano i miei ricci poi mi sono fatto un po la barba e anche se a susina io ve ne piacevo più con i baffi e la barba poi sì sto indossando perizona qualche perizona e tacco 12 come giusto che sia in parte questo insomma tutto quanto bene io per un bel po non ci sarò su youtube dunque non disperatevi non disperatevi davvero ragazzi non piangete non fate cose strane non suicidatevi non sai devo andare a milano perché mi dovrò operare di nuovo però è una cosa molto molto semplice però ecco insomma finché non ritorno poi a mettere video su youtube non esagerate non siatelo e non siatelo. E niente, a parte questo vi do la buonanotte, e fate attenzione, non fate video dove chiamate Richard, perché poi lui vi chiama, se può, lui vi viene a prendere, notte, vero che andiamo a dormire ragazzi? E ci abbiamo qui, è semplice, non ci abbiamo? Ragazzi io vado a dormire con loro, dunque, buonanotte.